salve a tutti ben trovati sul canale oggi con questo video voglio farvi vedere un trucchetto che che mi ha mi ha insegnato una mia carissima amica giovanna e per per far riprendere la verdura in generale questa rughetta che dopo averla avuta magari qualche giorno in frigo vedete si appassisce tutta e vi faccio vedere come come farla riprendere da così a così vedete praticamente la rughetta si è ripresa il trucchetto è spettacolare veramente il risultato è fantastico funziona anche con la lattuga e con altre verdure in generale quindi potremmo mantenere e non buttare cose che prima per esempio ecco una rughetta così praticamente è inutilizzabile ora vi faccio vedere il procedimento questa è una cosa un po strana appena me la appena me l'hanno detto non non volevo crederci allora avremo bisogno di un di una ciotola di acqua ma l'acqua deve essere tiepida inizialmente io avrei pensato insomma che l'acqua tiepida non potesse far bene a una verdura completamente appassita invece che succede una volta immersa chiaramente il tempo il tempo di immersione saranno dalle 4 alle cinque ore una volta immersa inizialmente l'acqua tiepida permetterà alla foglia che ormai si è raggrinzita di rilassarsi aprirsi e poi mano mano che l'acqua si fredda la la verdura inizia a prendere l'acqua e quindi rilassarsi e aprirsi nuovamente guardate veramente un trucchetto spettacolare ora vi faccio vedere lascio lascio passare le nostre cinque ore e vi faccio vedere il risultato ed eccoci qua sono passate le nostre cinque ore ricordatevi il procedimento è quello di riempire una ciotola con acqua leggermente tiepida la inseriamo la verdura e la teniamo per 4 5 ore guardate vi faccio vedere il risultato chiaramente rispetto a prima vedete sembra appena colta si è distesa e nuovamente abbastanza fragrante per essere utilizzata questo è un è un piccolo trucchetto che può servire appunto per risparmiare e non buttare cose che molto spesso buttiamo superficialmente spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto potete iscrivervi sul mio canale dove potete trovare altri video ed altre curiosità